Buongiorno e bentornati sull'Italian Maker. Si è conclusa pochi minuti fa la presentazione di un nuovo prodotto di casa Laika, ovvero la SL2S. Cos'è questo prodotto? Non va a sostituire la SL2, anche perché l'hanno presentata meno di un anno fa, ma va a affiancarsi a questo prodotto creando un prodotto molto più versatile e adeguato a molte più persone. Permette di mettere insieme il meglio dell'ambito foto e dell'ambito video in un solo prodotto. A differenza della concorrenza, che crea due varianti dello stesso prodotto, una con un sensore da pochi megapixel per fare video, però fa solo video, portare un sensore da 12 megapixel a fare foto sono un po' pochini al giorno d'oggi, o un altro da 60 megapixel. Sì, foto incredibili, ma per il video non va bene. Laika ha deciso di non separare due prodotti, ma di cadere un unico prodotto con tutte le caratteristiche per andare incontro alle esigenze di fotografi che hanno anche esigenze video o videomaker che hanno anche esigenze foto. Per fare questo ha creato questa nuova Laika SL2S con un sensore retroilluminato, il primo retroilluminato di casa Laika, da 24 megapixel, quindi un numero perfetto sia per fare foto che per fare video. Ma incontro alle esigenze di entrambi con una precisione tedesca appunto. Inoltre questo prodotto vuole essere uno tra i più robusti sul mercato, proprio per darci la possibilità di poterci affidare sempre a questa macchina in qualunque condizione. Hanno costruito un corpo interamente in alluminio che ha la certificazione IP54 ed è certificato per lavorare fino a meno 10 gradi. Quindi vuole essere proprio un prodotto pronto a tutto, in qualunque condizione, in qualunque situazione. Infatti durante la presentazione Alessandro Barteletti, un fotografo bravissimo certifai Bellaika, ci ha mostrato questo bellissimo scatto realizzato insieme all'Aeronautica Meditare, il quindicesimo battaglione, che si occupano del soccorso in mare delle persone. E questo scatto è molto difficile perché lui l'ha realizzato da un elicottero in movimento, quindi vento, schizzi d'acqua e necessità di dover cogliere l'immagine nel miglior tempo possibile e senza margine d'errore. Perché non si può ripetere un'azione del genere. E qui la macchina ha mostrato i muscoli, ha mostrato l'affidabilità del suo autofocus veramente incredibile. E ha mostrato i miglioramenti che sono stati fatti sul processore Maestro 3 nel riconoscimento di oggetti facce sull'autofocus, quindi veramente prestante. Sempre restando nel campo foto, questa macchina, grazie a meno megapixel della sorella SL2, ma allo stesso processore, può spingere la sua raffica fino a 25 fps alla massima risoluzione con l'autofocus continuo. Quindi veramente una macchina d'azione con la maiuscola. Sempre il sensore elettroilluminato permette una capacità ISO fino a 100.000 ISO, quindi permettendoci di catturare scatti anche in condizione di luce veramente bassa. Passando invece all'anima video di questa macchina, andiamo ad analizzare un po' le specifiche più interessanti. La prima su tutte è 4K, 60 fps, 422 10 bit in macchina. Tutta questa potenza non su un HDMI esterno, che comunque questa macchina ha presente ed è in formato full size, quindi non mini HDMI, ma ha una potenza di calcolo in macchina impressionante. Inoltre è stata registrata come camcoder, supera il limite di 29 minuti. Ci permette di registrare senza limite di tempo in 4K, 10 bit a 60 fps. E registra su schede di memoria doppio slot, entrambe UHS-II. Permette di girare in log e ci permette di caricare fino a due preset log da vedere in anteprima. Quindi abbiamo la possibilità già a schermo di vedere l'anteprima log. Tanta tanta roba. Inoltre Laika ci ha già annunciato durante questa presentazione che comunque stanno lavorando al firmware per svilupparlo e portare tantissime novità in campo video veramente succulente per i videomaker. Un'altra cosa che ci è piaciuta tantissimo e ci ha veramente reso felici durante questa presentazione, sempre per chi fa video, è la segmentazione del salvataggio del file minuto per minuto. Quindi non salva il file una volta finito tutto, ma ogni singolo minuto va a salvare su scheda di memoria, quindi non rischiamo di perdere intere clip. Altra cosa carina, ovviamente alla porta USB Type-C per poter ricaricare la macchina o anche per alimentarla mentre filmiamo. Visto che non ha il limite di 29 minuti, è impensabile girare 4 ore di filmato soltanto con la batteria interna. Possiamo collegare il cavo USB-C o tramite un power bank o anche con l'alimentatore del nostro MacBook, perché no, visto che ormai sono Type-C, e possiamo filmare senza limite di tempo anche in quel verso. Il sensore è stabilizzato a 5 assi, quindi sia per chi fa video comodo, ma anche per chi fa foto, grazie al multishot, quindi lui andrà a muovere il sensore, ci permette di fare uno scatto finale da 96 megapixel. Quindi per quei fotografi che dicono, ok, nel 90% dei casi mi vanno bene 24 megapixel, ma c'è qualche caso in cui mi servirebbero i 47 megapixel della Leica SL2, con il multishot potrebbe non essere necessario, perché comunque arriviamo a multishot da 96 megapixel. Sì, la SL2 con il multishot arriva a 190, però comunque a chi è che servono più di 96 megapixel oggettivamente. La compatibilità delle lenti ovviamente è garantita dal supporto L-mount, grazie alla partnership con Leica e Panasonic inizia ad esserci un parco sempre più importante di lenti. A livello di corpo e struttura è identica alla SL2, anche il peso è simile, esteticamente, esternamente è identica, se non per un piccolo dettaglio la scritta Leica sulla calotta superiore è in nero anziché in bianco, quindi c'è tanto questo piccolo dettaglio che fa la differenza. Passando al prezzo, allora, troviamo che il prezzo che abbia, che è poco meno di 4.600€, è sicuramente un prezzo importante, ma per tutte le caratteristiche che ha, in realtà è forse più economico della concorrenza, perché se pensiamo appunto a un fotografo che ha bisogno di fare sia foto che video e vuole il meglio di entrambi, su alcuni prodotti della concorrenza è costretto a dover comprare due corpi macchina, uno dedicato alle foto, uno dedicato ai video, la somma dei due corpi macchina sicuramente supera il prezzo di questa Leica. Inoltre comunque ricordiamo che è un prodotto costruito a mano in Germania, menu studiati benissimo, costruzione impeccabile e anche una tenuta del valore dell'usato decisamente diversa da una concorrenza nipponica ad esempio. Vi ringraziamo per aver visto questo video, un saluto a tutti da The Italian Maker e al prossimo video!